In questo video ti parlo di questo registratore digitale, ovvero lo Zoom H1n. Come suona? È adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Bene, come ti dicevo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo registratore digitale, ovvero lo Zoom H1n, che ho comprato, usato una quindicina di giorni fa e che mi ha davvero tanto sorpreso. Nel frattempo che io parlo ti faccio comparire anche il sovraimpressione un po' di schede che ti fanno capire le caratteristiche di questo strumento. Strumento che secondo me è molto versatile perché è vero che un registratore digitale ha una traccia sola, stereo, ma può anche essere usato come scheda audio, gli puoi collegare un microfono esterno, gli puoi collegare delle cuffie, registra su scheda HD, può essere alimentato tramite presa della corrente o tramite power bank. Quindi ha un sacco di caratteristiche interessanti e tante altre te le racconterò durante questo video. Contestualizziamo prima un po' il video. Allora, in questa prima parte del video io sto parlando dentro lo Zoom H1n e tu in questa prima parte sentirai un audio pulito, quindi così come la mia voce entra dentro lo Zoom H1n. In una seconda parte del video metterò il microfono sopra quest'asta, quindi fuori dall'inquadratura come se fosse un microfono come il mio Octava MK012-01 che utilizzo spesso in questa posizione e poi nell'ultima parte del video terrò anche il microfono in mano in modo che tu possa sentire come suona tenendolo in mano. Ok? Benissimo. Allora, in questo momento sto registrando in questo microfono e siccome l'ho definito microfono perché è un po' tutto, quindi a volte lo chiamerò microfono, a volte registratore digitale. Insomma, è comunque lo Zoom H1n. Questo strumento sta registrando in questo momento a 24 bit 48 kHz. Hai capito bene. Non è come ad esempio lo Zoom PodTrack P4 che registra solo a 16 bit 48 kHz o 44 kHz. Adesso non ricordo, ma vai a vedere, ho pubblicato diversi video sullo Zoom PodTrack P4. Questo qui arriva addirittura fino a 24 bit 96 kHz. Ovviamente può registrare anche in MP3 fino a 320 kB al secondo, quindi molto interessante. Quindi da questo punto di vista prestazioni top di gamma perché oggi, togliendo tutte le schede audio e comunque la tecnologia 32 bit floating point che nel momento in cui sto facendo questo video sì, ci sono i primi esemplari, ma non è ancora così diffusa, io credo che questo dispositivo abbia delle prestazioni veramente al top. Ok? Ovviamente i preamplificatori non sono chissà che, ma te ne stai rendendo conto, però questo dispositivo che fa tutte queste cose costa 55 euro. 55 euro. Probabilmente l'hai visto nella copertina del video. Esattamente 55 euro. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che è possibile registrare un podcast o utilizzare questo strumento per registrare un podcast. Ho in mente, se a te va, se ti fa piacere, ma commenta e fammi sapere, realizzare diversi video. Un video in cui, come ti dicevo prima, metterò in paragone, farò un paragone tra questo e lo Zoom P4. Un altro video dove ti racconto tutti gli accessori indispensabili per rendere questo strumento uno studio di registrazione per il tuo podcast. Sono cose molto economiche che però davvero riescono a portarlo a un altro livello, a farlo diventare davvero qualcosa di molto più interessante ad un prezzo bassissimo. Un altro video nel quale ti farò vedere tutto il processo di registrazione di un podcast utilizzando solo lo Zoom H1N. Queste sono le mie idee. Fammi sapere se ti interessa, se c'è qualche altro video che secondo te dovrei realizzare su questo strumento. Ok. Adesso, come ti avevo promesso, tolgo lo Zoom H1N da questo treppiedi e provo a metterlo in alto. Allora, in questo momento tu non vedi lo Zoom H1N, ma è esattamente subito sopra l'inquadratura. Quindi proprio appena appena sopra la cornice del video. Perché l'ho messo lì? Perché volevo farti ascoltare come suona anche quando non è nell'inquadratura. Quindi anche quando non è vicino. Il gain di questo registratore non lo sto modificando. Lo tengo sempre a 7 o a 8. Te lo scrivo qui perché non mi ricordo ho fatto dei test sia con 7 che con 8. Ho visto che erano il valore di gain più interessante. Comunque te lo scrivo. Non ho cambiato il gain, ma l'ho messo semplicemente fuori campo proprio per farti sentire come suona quando è fuori dall'inquadratura. Quindi prima era in basso, adesso è in alto. Prima era nell'inquadratura, adesso fuori dall'inquadratura. Questo perché? Perché questo registratore, microfono, eccetera, eccetera, eccetera può essere tranquillamente usato anche come microfono. Quindi immagina che anziché connettere il microfono a una scheda audio o a un registratore e poi fare tutto il processo per portare le tracce sul computer tu stia già registrando sul registratore quindi hai un passaggio in meno. E questo potrebbe, se stai iniziando adesso, semplificarti davvero la vita. Ok? Soprattutto se fai podcast audio video perché lì c'è il sync col video. Se stai registrando soltanto podcast audio basta trovare la posizione giusta e non hai nessun tipo di problema non devi sincronizzare con nulla. È un microfono stereo, questo già te l'ho detto la nostra voce è mono, ovviamente quindi la cosa che ti consiglio di fare, che farò io è quello di trasformare left and right in mono ok? Quindi in mono con la somma di left and right perché la voce è mono. Questo registratore registra stereo perché? Perché è pensato anche e forse soprattutto per registrare suoni ambientali o comunque per registrare, non so, conferenze, concerti e quant'altro. Quindi lì ha un senso avere lo stereo. Quando registriamo soltanto la nostra voce non ha senso quindi nel momento in cui abbiamo la nostra traccia stereo la uniamo in mono sommando left and right e abbiamo risolto. Ultimo test che voglio fare è quello di prendere in mano questo registratore e qui ti avverto già che le cose saranno diverse. Ok, in questo momento sto tenendo il registratore in mano provo a tenerlo a una certa distanza prima di fare questo video ovviamente ho fatto una serie di test e posso confermarti che i microfoni di questo registratore sono veramente molto sensibili quindi se avvicini troppo il registratore alla bocca ottieni quelle fastidiosissime plosive male si sentono veramente tanto adesso io provo anche a muovere il microfono perché magari sei una persona che non super esperta un po' nervosa, un po' agitata che quando parla muove il microfono adesso lo vedi io lo sto muovendo lo sto tenendo in mano quindi sentirai anche i famosi handling noise i rumori che provengono dalla manipolazione del microfono. Ok, probabilmente stai sentendo anche P e B abbastanza evidenti ma io non le ho volute modificare in post produzione a parte che sarebbe stato complicatissimo ma proprio per farti sentire che sì, è vero che questo dispositivo è della serie H quindi in teoria possono essere portati in mano eccetera eccetera ma non rigetta tanto i rumori di manipolazione ma nel video in cui ti parlerò degli accessori te l'ho già anticipato prima ci sarà un accessorio che ti permetterà di tenere in mano questo registratore senza alcun rumore costa 2 lire quindi costa pochissimo ed è un accessorio dal mio punto di vista indispensabile ma c'è un intero video che voglio realizzare proprio su questo quindi non voglio spoilerare tu stai sentendo, io sto muovendo il registratore ho tantissima paura di quello che andrò a ascoltare dopo in fase di montaggio del video perché ho già fatto una registrazione prima e le PLB erano fortissime ok, come vedi io parlo qui il microfono è in basso però comunque veramente, veramente molto sensibile allora, in ultimo volevo dirti, forse non te l'ho detto prima ma sicuramente l'hai visto in sovrimpressione ha un attenuatore a 80, 100 e 120 kHz che io non utilizzo ha un limiter che ho notato però quando entra in funzione aggiunge rumore di fondo quindi non lo utilizzo e ha un autogain che in teoria ti permette di non andare in clip ma non mi piace come gestisce il gain quindi è tutto manuale ok, benissimo ci tenevo a dirti questa cosa perché non te l'ho detta prima va bene, allora io con questo microfono in questa posizione assurda e spero tu stia sentendo ti stia rendendo conto di quante P e B stanno entrando adesso e di come sarebbe meglio utilizzarlo come ho fatto finora io a distanza, in basso oppure in alto e niente se hai dubbi, domande, curiosità anche sugli altri video di cui ti ho parlato fammi sapere nei commenti e noi ci sentiamo ci vediamo settimana prossima ciao 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 ciao